Il giudizio è fatto su 5 indicatori principali che partono dal negativo, leggermente negativo, media regionale, leggermente positivo, positivo. All'interno di questi 5 indicatori ancora, per ciascuno di questi 5, ci sono 3 gradini. Quindi, se noi partiamo 3 per 5 fa 15, in una scala di valori che va da 1 a 15, adesso mi dovete vedere sulla parola, non vuole essere che ho detto una festeria andate a controllare, la nostra scuola è valutata a 15. Significa che il giudizio che dà il sistema nazionale di valutazione sul lavoro che i docenti di questa scuola fanno con i ragazzi è giudicato molto positivo.